Cosa tengo? In realtà posso anche tenere tutto E' mega aggressive come manodo Boh proviamo Porco dio bro Oh mamma che merda sta roba Sta roba è una merda totale A finire che perdiamo La grafica Ieri mi sono messo a codare un attimo Innamichevole per far si che non risultasse Troppo heavy la grafica Mi sembra ok così Ieri qualcuno diceva che la camera troppo grande I cosi erano troppo grandi sotto la cam o altro Così mi sembra fine Ieri mi sono messo un po' a cercare Di settare al top Così pare mega clean per quando si fa airstone Datemi di feedbacks Così in caso dopo la live sistema Se c'è qualcosa che Dite che sia meglio in altro modo Pocchio dio Ha senso tradare sta roba Per Kaizo ieri avevano già nuove le grafiche Mi avevano piaciuto un sacco Non so se andrò faccio tradare Boh non la so C'è giocano apoteosi in wild Penso Il discorso è quello Stiamo vincendo come si deve Primo game dell'eroic brawl Direi di fare un eroic brawl nel chill Dopo Kaizo All'incirca come piano Boh questo lo gioco penso Non so Però che se lui qua c'è una E È un problema E' facile mettere il tracker Oddio se si può mettere Cazzo c'è Va bene questo è ok in realtà Penso Che mazzo dovrebbe essere lui? Il merda priest però Non ho neanche capito che mazzo Cioè non lo so Lui ora ha 5 mana Cioè se anche rimuove bordi Teoricamente Può vincere Ho capito cosa intendi Bene Mattias Ora feri I can hear the music Cosa sta esattamente facendo sto tipo? Ha quello che ridà il mano? Ok Ha quello che micilla il pezzo? Ok What the fuck Ok nulla Concede Make sense then E una è andata Signore Buona la prima Dicevano no? Un bel punto esclamativo Viva in chat 5% Le chiavi nel culo Gli opponent Praticamente Dimmi che Dimmi che c'è un pirata Perché altrimenti Mi nervosisco Direi che lui non è bad Non è una bad Ma buono Turno 2 C'è una staborda L'arma da con 5 L'attacco Lui ha 20 di vita Non mi pare male Non mi pare male bro Che dici? Che dici? Ritmo è danza No no La normale Di 6thrite No nulla Comunque mi sono gasato Quando ho visto Che la viene da stare vista Non è Allora Yogiò Merda Yogiò È mega overrated Omega morto Yogiò Sono i pokemon Che gli sborrano sopra Yogiò Merda Ah Ti prego Yogiò Omega lull Adesso Yogiò Fanboy Ma cosa stai dicendo? Però stai bestemmiando Cazzo dici? È proprio un quick Però So C'è che palle Sta gente Con 40 ice block Every time Cioè Molto interessante bro Ora concedi al tuo padrone Però Molto interessante Ma ora concedi al tuo padrone Bella Lorenzo Bella Lorenzo Con tanto di emoti tattica Di prepotenza E arroganza Ci sta tenere sta roba O è follia Mi piace Piratino da 1 Di porco La merda bro So bad Sta roba Holy shit Mi serve un pirata da 1 Bro Altrimenti perso Ok Il punto se lui gioca Un pezzo meno E' un po' me Perché questo C'è Ok Ottimo Allora per noi Sta roba Ottimo 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 Assurdo bro Quanto cazzo sgrava Sta roba Ha No senso Vecchio Che cazzo è Sta roba Merda È completamente Insane Sto deck Completamente Insane Facciamo un heroic Brawl Direi Omega fast Ma cos'è Sto Sta Che bella Sta 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 taverna Cioè guarda qui Di questo colore opaco Quasi Mai vista Che cazzo è Sta roba Bellissima Di questo colore Un po' opaco Mi gasa Infinito Dude Ma davvero Infinito Dude Oh mamma Che palle Davvero Devo far No Radda lui Gas Io ho Da full face Nel dubbio Bella guaccione Grazie per i 6 col prime Gentilissimo Prima ressa Odierna Del capo Del guaccione Broprio lui Bro Quanti danni ho 4 3 7 8 9 10 11 12 Ok Ti so far 3-0 In un quarto d'ora So good Bro Pensavi non ti sapessi rispondere Bro Invece Invece Ti ho stannato Cos'è sta merda Vecchio Perché giochiamo sta carta Di Okan Non mi sembra Ottimale Ma minco questa roba Oddio Off-white Io ho solo una sciarpa Che mi regalarono i mod Con tipo una colletta Al mio complanno Una volta avevo anche dei pantaloni E una felpa Poi l'avevo venduta Minchia È bello questo Però Io ti consiglio di andare Di aggro druid Bro Non penso di essere interessata A nulla Vitto Però se vuoi mandare una foto Quel che è Le guardo Cioè Non si sa mai La vita Right Perché questa Quattro d'attacco Aspetta un attimo Mi sono perso un pezzo Perché ha quattro d'attacco Questa Ah per l'arma Ok Perché sono il capo Del game Perché sono il cazzo Di capo del game Quattro d'attacco Gli occhiali in realtà Li ho usati Quasi sempre Quest'anno Gli ho tolti A resta Per usavo Pokémon Perché Usavo le cuffie Col microfono Siccome altrimenti Sento un botto Joystick Posso fare Little Penso Procchiamo Lo vediamo Torno Poi abbiamo Arma Altro game Stessa storia Altro game Stessa storia Ho studiato La bocconi Io però Intellettuale Certo Madonna Ma come che è noioso Quel match In nuts Da beccare contro E' una free win Porca puttana Non me ne privo La voglia Che non me ne privo No scherzo Non ho fatto L'unibro Secondo te Ne vedi Uno da Università Vabbè Certo Quello 4-0 In 20 minuti Mi scivola addosso Non è male Sto mano Honestly Però Boh Sono arrivato Tre volte La Lega Mi spiace Deluderti Allora Cosa facciamo Qua Voglio Sconare Lui Però Lui Ping Secondo me Sconiamo Lui Professore Di Rogue Cazzo Cazzo fa Sta roba Oh mamma 40 carte Oh mamma Top Deccato Bro Che culo Rotto Porco Dio Immaginavo Immaginavo Honesty Questa Cosa c'è Da star tranquilli Un attimo Allora Mi sa Dobbiamo prenderlo E tradare Ok Cominciamo a pushare Da dopo Annoying Dici che è un'altra Flameward Cazzo 2 Flameward Mi sembra insane Che le abbia in mano Onestamente Un 3010 In class What In class What in realtà poteva essere un'altra flame ward solo che madonna e wild no eeeh vediamo face si pesca ok dopo viene l'altra armagen vediamo oh mamma bro cazzo che palle sta roba ha un cazzo di segreto a turno porco dio era bello passage eh però è un'altra flame ward del cazzo questa no c'è ok mamma mia bro oh mamma bro no fuck annoying ok vediamo oh mamma bro per giocare rogue mi ha portato vari danari tra tornei e coaching mi avrà portato un pochino di soldi qualcosa fatto in questi ultimi due tre anni bella bella peppe grazie so superi due uno che non hate era incredibile oh mamma vecchio ma cos'è sta roba ma perché vecchio dove c'è sta roba cazzo è cazzo è c'è oh mamma ah eh sì sì eh sì tils bro 5-0 pensavo fosse ice block inizialmente 5-0 so fare figurati fino comunque per vedere i deck andate nella sezione decks filtrate dopo qua mettete wild e vedete vedete fare dai sitar per mandare avanti il 3 non ne puoi salgiftare 2 non privartene ha morta il coil a tocco del nader zoom va bene cioè va bene non va bene però va bene non va bene però va bene un sito dove iniziare a vendere carte pokemon io ho vendute tante e ti consiglio telegramo ebay consiglio telegramo ebay giocare lui ora dopo l'arma no era meglio probabilmente fare prima arma vai con telegramo ebay telegramo ci sono i gruppi pokemon oh porco dio dai però ma guarda che cazzo mi devo beccare contro madonna puttana ebay è buono ora hanno anche ridotto le commissioni finali ma dalla cima l'avevamo ceduto poi infiniti anni fa ormai bro sarà 3-2 anni fa non dipende l'ha guardato matto tutto poi era figo però il punto è che il ritorno economico non era worth abbastanza al punto di star al punto del tempo speso starci dietro in breve vediamo oh che palle vecchio questo madonna ci perdo sto game il turno da possiamo fare questo e questo push punto questo ma in realtà come traffico non andava male per nulla cioè non andava male solo che devi fare cioè devi la domanda che ti devi sempre fare se dedico x tempo a x cosa mi stanno tornando abbastanza soldi indietro per il tempo che ci dedico cioè secondo me e la risposta era no madonna vecchio male a un orecchio don't be shy 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 in realtà posso far lui tradare sì ci sta probabilmente meglio far così qua dobbiamo pushare dopo abbiamo arma con il charge più il something non lo so wild standard che palle però però madonna puttana che culo sto tipo 5-1 sto non si vince sto game che mano oddio cam però 5-1 ok 5-1 siamo in strada per far bene stile torno dopo via un passage potrebbe essere buono se trova il torello no perché giochiamo prima questo standard fai punto scrammativo sito allora bro lì c'è tutto c'è la seconda uso abbiamo perso super jj let's night le stream di jj life coach back in the days che belle che erano porca puttana i'm so dead bro devo trovare tipo un altro di queste torello e posso avere una chance non posso far torello se lo pesco però porca puttana quindi ho perso ho giga perso è buono fanculo vecchio avevo vinto con un male in più porco dio fuck man cioè erano era little praticamente con un male in più qua cazzo incredibile un lucky un lucky un lucky or not ho perso right va bene dai 5-1 iniziamo un'altra 5 di fila ora però vogliamo tenerla l'arma o qualcosa non penso right contro priest vogliamo partire forte con un bel drop a 1 pirata non male però non male non male se troviamo un drop a 1 il nace facciamo un drop a 1 drop a 2 arma ma questo vogliamo passaggio something good come on è buono sto priest con sta roba non questo intendevo di drop a 1 bro effettivamente non l'ha specificato virata troppo 1 leggendario gennaz non vedevo l'ora di pescarla wow lui qua fa questo per pingare 3-1 coraggioso come choice non lo possiamo fare questa e questa sembra buona pusciamo ho l'auto prunetta come va socio usa coin è meglio farlo oh mamma bro però foto bn dobbiamo vincere qualche game e pullare le 12 cos'è che ha pescato sto culone bro oh mamma signore di dio l'incubo bro l'incubo bro the nightmare the nightmare the nightmare oh dio non lo so cioè secondo me ci sta il trade di questo in realtà forse era meglio trodare d'armast però tanto poi aveva il ping a zero su quello solo che se il tour dopo lui arena ho perso ma davvero perde da razzacus non c'è da razzacus con sta merda di prista dai vaffanculo bro non scherziamo vecchio oh mamma l'incubo l'incubo però oh attenzione questo è una da bad però perso da arena ma ma con cuore spero che non abbia arena in mano se non arena in mano sia un fine se arena in mano non sia un fine let's see merda che roba riperdo dai 40 carte deck back to back perlomeno vecchio che palle oh mamma mia oh mamma mia serio da piangere qua c'è so so c'mel vecchio vediamolo ok ok aspetta quante carte ho tirato io ora non ce ne ho fatto caso non sei giusto vediamo ce l'ho hit il cannone ok abbiamo un altro passage maybe c'è chance anche se ridotta è bello il torello però c'è sta 31 cristo c'è l'hp a 0 c'è l'hp a 0 sta 31 ha visto rene e ha visto anche l'altro madonna terrible spot per noi c'è l'hp a 0 ok c'è ok not really scelta ok come devo attaccare prima faccia Perché In questo caso Questo lo gioco prima All'Aki Veramente All'Aki Porco Dio però So All'Aki Questo era Game Changer Se ittava il pezzo lì Erano infiniti danni in più testa I'm dead 5-2 Magari domani O stasera Se faccio No domani no Domani streamo poco Streamerò O non streamo proprio Se streamo streamo un'oretta domani Alla mattina Un'oretta Un'oretta e mezza Domenica però faccio doppie live Mi sa sia mattina che sera E cioè stasera forse streamo anche Cioè probabilmente streamo sì Che magari faccio un heroic brawl Un altro heroic brawl Più kites O solo kites Boh vedremo Oh mamma Avrò perso sto game Mi ha unato sto tipo Però mi ha Mi ha scavallato I'm so dead I'm so dead I'm so dead Ci ho provato Ci ho messo il cuore Ma Non basta certe volte Magari ora ne vinciamo Sette di fila però Ma vogliamo andare già su kites Rego E continuiamo sta run Later on Dopo che hai giocato una carta Copiata dall'avversario Rubare l'originale Merda Perder da Razzacus Veramente mi fa salire il crimine però Davvero mi fa salire il crimine Che cazzo però Ah è vero c'è il secondo arena Avete ragione Chi è che l'aveva scritto Madonna ma Vecchio ma sta roba qua Non ha senso actually What the fuck Ma cos'è sta roba Solo che la prossima Devo sganciare altri 10 euro A meno che A meno che non Non faccio svariate win qua Io lo farei lui Probably Still Sto rogo è così consistente Sì mazzo con un red più alto in wild Quanto meno Non venisse i grollato Buono che abbia usato coin lì Minchia Va bene sta roba Se evitiamo che scenda l'uza Anche questo Se evitiamo di venire i grollati Once again Da un 40 carte deck Non sarebbe male Partiamo con questo presupposto Questo va bene GG Dai questo si vince Buono Probabilmente Quanto meno Guarda qui Questo è un mazzo serio Vecchio Tutto a testa Game di 2 minuti Questo è il naz Questa è airstone Vecchio Anche se io vorrei Un botto rigiocare Quest rogue Vorrei rigiocare Questo rogue Quello Che faceva tutto 4-4 Quello lì Che era un grande Uno dei più skillati Che c'è mai stato Facceli Ah sono di nuovo 5-5 Merda Che bello Che era questo rogue Che bello Che era quello Oh mamma Ha perso Dovrei aver venuto Il sistema Fingiamo che sia tutto normale Ma quello che non è normale È che lui sia ancora in game A turno 6 Dovrebbe aver già concesso Da qualche turno Questo non è normale Dai Jay Dai bravo Non c'è più religione In questa chat Sfiace Happens Questo è un problema Fa un culo bro Non riesco a giocare I miei pezzi Ah attenzione Eh però meglio Steal far lui Penso Gioco dopo con arma Questi penso Grazie di follo I'm good I'm fine Let's go Guarda Guarda Questo è un cazzo Di deck serie Vecchio Tutto testa 22 di vita Turno 3 Con una board Insana Coin Buono Bene 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 Proponiamo gioco Proponiamo gioco Più tardi facciamo anche una sub gift Ma puttana dio Vez No Non vorrebbe stemmiare Solo che mi è finito Il cavo delle cuffie sotto la sedia Mannaggia Mamma mia Ma cos'è sta roba che frizza Vergogna Grazie Socio Guarda quanto si smorca Mamma mia Sto deck veramente è bello Grazie mille per i 4 Ez Gentilissimo Emota l'opponent Piacere mio Turno 5 6-10 di vita Se non è il piacere mio In questo caso Non è mai Ma so Allora da quando A gennaio ci si è messo a vedergliene Fetticolate Ogni versione è diventato Socio Ormai Perché C'è l'atti che lo usa 4 volte In ogni frase Quindi quando ci mettiamo a parlare Fa socio 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 Me l'ha attaccato di brutto Cioè Socio is the new vets It's not my fault Ice block Firenze I'm good I'm fine Acce Acce li farei lui Non farei lui Io lo lascio esattamente 1 e non 2 Ok Ok We go Basta dai ragazzi Niente Fatemi stare focused Voglio fare 12 euro in Cristo Ma c'era quando era iniziata la guerra nel crane Che mi guardavo un sacco di Di robe che ne parlavano Ora non sto più seguendo tanto onestamente Socio Socio si usa qua a Milano Avete in centro Milano Otto Brunezza In Borghese Io mi chiedo come sia possibile Che ci hanno sempre due ice block Cioè non ho ancora beccato un magic Che non mi ha fatto Ice block into ice block Cioè assurdo Stavendo Ma cosa parlo di attualità Se non sono informato sull'argomento Che cazzo ti devo dire Però c'è Non lo so C'è Non so come te che mi piace parlare Completamente a caso Su cose di cui non so niente Jay Però ci può stare Vabbè c'è C'è la cosa della cubricola Falingami di Nazareth Otto Brunette Il tridente Tipo Messi nei Marsuarez Qua c'è il tridente Andrea Jay Falingami di Nazareth Otto Brunette Ognuno Ognuno c'è i suoi di tridente Per malosoni ne abbiamo Secondo me lo tengo il passo Su Southwood Raga oggi siete completamente esitati Non so perché venerdì Il venerdì la chat Impazzisce Con fronte al resto dei giorni Comunque Questa è una roba che ho notato Uno normale Bella socio Il venerdì Siete completamente esitati Con fronte agli altri giorni Effettivamente Cioè Incontenibili Oh ieri ci ho perso Da sto deck del cazzo Actually Mamma mia bro sta roba Godo 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 Che gli è uscito quello Ma c'è lui Merda però Incense sta roba What the fuck No ma sono un coglione Devo tradare Ah no 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 Che ho vinto là No sto 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 Sai il punto è che Sta roba è terribile vecchio Putrefist non pulisce What Cioè Oh mamma bro Cioè ma che ha Oh mamma bro Oh mamma bro Ho perso again da sta roba Ci ho perso anche ieri Sto deck qua counter È infinito il mio sbaglio Ci ho perso anche ieri Cristo Eh Sta a 0-0 Questo I'm so dead I'm omega dead GG 3-7-3 Proviamo un altro rogue direi Nella prossima rock brawl Guarda ho perso da un mazzo Di seater Che ho fatto apposta per counterarmi 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 la sciaman del romano la sentenziata la sciaman del romano ora devono partire altri 10 euro se vogliamo fare un altro eroic brawl 7 e 6 ma non c'ho le carte per far Renalock dai air sitter fai 10 sabbette così facciamo un altro eroic brawl forza beh comunque non mani il bottino per 7 wind grazie a tutti